Gentili telespettatori, buona giornata. L'ordine dei giornalisti processa Porro. Non Porro, Porro. Giornalista Nicola Porro, che ha un suo programma su Rete4 e poi un suo canale qua su YouTube, ha aperto un procedimento disciplinare ai danni di Nicola Porro. Ma cosa brava mi hai fatto, Nicola Porro? Chi avrà offeso? Chi si sarà sentito offeso? Nessuno. È colpevole, colpevole un modo di dire, di aver intervistato un viceministro ucraino senza contraddittorio. È contraddittorio? Tu intervisti un viceministro di un altro paese e cosa devi fare? Devi mettere lì uno dell'opposizione ucraina per fare il dibattito? Scusate, ma non ho afferreto, come direbbe Lino Banfi, non ho afferreto. Infatti, sembra uno scherzo. Nicola Porro è passato dall'essere designato come un filo putiniano a cantore dell'Ucraina. Prima è accusato da Nino Cartabellotta di non aver stretto la mano a Zelensky a porta a porta. E poi incolpato di aver intervistato un viceministro ucraino senza portare in studio il contraddittorio. Sembra una barzelletta, ma non lo è. Adesso non so dirvi se realmente Porro non ha stretto la mano a Zelensky come ha fatto Orban. Non lo so, lo sto leggendo in questo momento con voi, che Porro non avrebbe stretto la mano a Zelensky. Quindi lo hanno definito un filo putiniano. Però, visto che non vi so dire se è vero o no, andiamo oltre, andiamo sul processo, il processino. Il 4 luglio prossimo Porro dovrà presentarsi di fronte al Consiglio di disciplina dell'Ordine Lombardo. A causa del procedimento disciplinare aperto a suo carico, l'accusa di aver intervistato il 22 maggio del 2022, stiamo parlando di un anno fa, la viceministra degli esteri e Ucraina senza qualcuno che esponesse tesi contrapposte. Ma stiamo scherzando? Cioè, se io vado a parlare e dico che non mi piace quella spiaggia, deve venire con me in studio uno che deve dire che quella spiaggia gli piace? Se a me non piace un certo tipo di macchina, devono invitare in studio uno che dice che invece gli piace? Se io dico che non mi piace stare in spiaggia tutto il giorno, preferisco andare a fare un giro in una città d'arte, in televisione devono invitare uno che dice l'opposto perché ci vuole uno che dica anche magari l'opposto. A me sembra una roba senza senso. Ma cancellatevi da quest'Ordine dei giornalisti. A cosa serve? È obbligatorio essere iscritti all'Ordine dei giornalisti per fare i giornalisti in Italia? No. No. Ce ne sono tanti che si sono cancellati e continuano a fare i giornalisti. Pertanto se tu devi fare il giornalista e ti devi sentire processare da un Ordine dei giornalisti che tu paghi volontariamente ogni anno, è assurdo. Non ha senso. Poi cos'è sta storia, sta barzelletta? Tu intervisti un viceministro di un altro paese e devi invitare uno che ha una tesi contrapposta, che ha una narrazione opposta. Secondo il ricorrente che si è rivolto all'Ordine, il conduttore di Quarta Repubblica avrebbe invitato solo ospiti allineati con l'intervista e avrebbe fatto cadere nel vuoto una domanda di Toni Capuozzo. Il tutto condito dal fatto che questa viceministra avrebbe negato l'esistenza di una guerra civile in Donbass. Ma allora Fabio Fazio per anni avrebbe dovuto invitare quello di sinistra e quello di destra, avrebbe dovuto invitare il professore, lì come cavolo si chiamava, Burioni e doveva invitare anche un Novax. Cioè, capite che a me sembra una barzelletta. Sembra una barzelletta. Bene. A che serve tutto questo? A nulla. Perché il problema non è discutere se l'intervista si è stata condotta correttamente o meno. Il dramma sta tutto nel fatto che si sia anche solo pensato di aprire un procedimento sul caso. Mi sembra che abbiamo perso il senso della realtà, dice Porro. Sì, ha ragione. Innanzitutto migliaia di politici in Italia e nel mondo vengono intervistati faccia a faccia senza contraddittorio. Non lo aveva neppure Zelensky a porta a porta, ad essere puntuali. Se invitavi Zelensky doveva invitare anche Putin? Se no, non lo puoi intervistare. Capite che è illogico. Se la linea diventa questa, scrive il conduttore dal suo sito, io corro il rischio di dover passare tutte le settimane davanti alla commissione di disciplina per spiegare il modo in cui faccio le interviste. Ma non è una cosa mostruosa, dice Porro. Forse addirittura pericolosa. Sì, ha ragione. Ha assolutamente ragione. Io è da un certo periodo, da un po' di tempo che non condivido più le cose che dice Porro. Troppo amico di chi governa, nel senso poi aveva raggiunto l'apice quando c'era il compleanno di Salvini, la Meloni e Salvini che cantavano, lui che faceva il video da mettere subito sui social per dimostrare che erano amici, lì ha raggiunto l'apice di quella roba lì, no? Ecco, insomma, da lì mi è definitivamente caduto proprio. Io spesso guardavo i suoi video su YouTube ed ha parecchio che sono iscritto sempre al suo canale, ma non l'ho più guardato perché è diventato troppo, 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 troppo fazioso. Anche quando ci sono delle cose indifendibili, lui cerca comunque di difendere per farsi vedere amico di chi governa. Però questa volta ha ragione, nel senso, questa volta ha assolutamente ragione. Non vi ricordate Giuseppe Brindisi che intervistò il ministro degli esteri, Lavrov? Ha invitato anche uno che la pensava diversamente? No, ha fatto un'intervista, appunto, e basta. Non so, tu vuoi intervistare la Meloni? Allora devi portarti anche la Schlein, no? Se intervisti Salvini devi portarti Saviano? O se intervisti Saviano devi esserci anche Salvini? Non so io. Che significa una cosa del genere? Per me non ha nessun senso. È una cosa mostruosa, come dice Porro, una cosa addirittura pericolosa. Caro Porro, cancellati dall'ordine dei giornalisti, puoi condurre lo stesso il tuo programma televisivo, puoi lo stesso avere il tuo sito e scrivere quello che vuoi, puoi lo stesso avere il tuo canale di YouTube. Quindi, liberarsi di queste robe. Eh, ma sai, l'ordine, l'ordine è disciplina dei giornalisti, cavolo. E allora poi cosa sei? Non ti dicono più giornalista. Ma cancellati, dai! Arrivederci a tutti e grazie.